ma questa è la mia musica ora anche di maria devo essere gelosa si può essere gelosi di un dono di dio si fiero ma che fai qui t'aspettavamo tra una settimana cos'è accaduto? destituito l'imparial reggio delegato mi ha fatto chiamare per dirmi che la perquisizione in casa mia ha dato risultati dolorosi e inattesi quali non ha voluto dirmelo e ha soggiunto che avrebbe dovuto iniziare un processo contro di me ma in considerazione dei servigi resi si sarebbe limitata a togliermi l'ufficio così magari devo pure ringraziarlo eh? ho paura che sia per colpa nostra zio sentite cari basta con questi discorsi inutili ormai la frittata è fatta e bisogna pensare al pane comunque stavolta siamo davvero nei guai e bisogna pensare al pane tua nonna vuole prenderci per fame ma si sbaglia ah e e Grazie. 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 Grazie.